Buonasera, stasera faremo degli spaghetti con olive, capperi, alici e pane aromatizzato abbiamo messo a soffriggere nel 5 cucchiai d'olio di extravergine d'oliva il nostro aglio ora taglieremo un peperoncino fresco raccolto sempre nel nostro angolo delle aromatiche attenzione alle mani e agli occhi metteremo anche questo nel nostro soffritto quando cominceremo a vedere le bollicine intorno all'aglio vuol dire che comincia a soffriggere accompagneremo tutto da un ottimo pecorino alla salute che spettacolo ecco il nostro aglio che soffriggere aggiungiamo i nostri alici queste le facciamo sciogliere che profumo aggiungiamo anche i nostri capperi del salento questi non li tagliamo perché sono piccolissimi sono tenerissimi le nostre olive taggiasche le tagliamo intanto abbiamo messo in un'altra padella due cucchiai d'olio per scaldare il nostro pane grattato aromatizzato con del prezzemolo ecco l'olio che va su che friggio che spettacolo ecco le nostre olive che sapore questo è un piatto molto saporito infatti non aggiungiamo sale perché adesso mettiamo il nostro pane grattugiato aromatizzato al prezzemolo e timo un palerino antiaderente e cominciamo ecco ecco le serie ci sono sciolte possiamo spengere adesso vediamo il nostro pane grattugiato vedete si comincia a colorare un altro sorzetto di pecorino e spettacolo questo sarebbe il formaggio dei poveri ecco continuiamo così nel frattempo mettiamo sull'acqua per i nostri spaghetti la nostra acqua bolle buttiamo giù un etto e mezzo di spaghettone intanto accendiamo il nostro intingo e aggiungiamo un po' d'acqua di cottura termineremo la nostra cottura degli spaghetti nella padella ecco qui scolliamo la nostra pasta la scolliamo molto morbida e la risottiamo ecco qui che profumo la pasta l'abbiamo salata pochissimo quasi niente e calcolando che ci sono le alici di cetara le olive taggiasche e i capperi del salento è tutto un piatto molto saporito ecco qui che profumo che spettacolo spettacolo vero ecco qui ora aggiungiamo il nostro panno aromatizzato che colori questo è da mangiare in padella ragazzi spettacolo vero ecco qua signori buon appetito che spettacolo alla salute